9 dicembre 1920. Nasce a Livorno Carlo Azzeglio Ciampi. Nel 1946, dopo la fine della guerra, durante la quale ha combattuto come partigiano, entra con un concorso in Banca d'Italia. Nel 1979 ne diventa governatore. Dopo vari incarichi governativi, il 13 maggio 1999 viene eletto alla prima votazione e con una maggioranza larghissima, Presidente della Repubblica Italiana. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi. Muore nel 2016.